Ciao a tutti, oggi è venerdì 27 luglio 2018, siamo qui al laghetto, quello di Corso 4 novembre, dove hanno fatto una mega cagata. Allora, professore, siamo al disgusto totale, perché qua la persona che ha fatto questa mega cagata era anche molto attrezzata, visto che c'è della carta, e quindi avrebbe potuto trovare una soluzione diversa che non quella di fare i suoi bisogni vicino alla scaletta che porta al laghetto. Noi adesso volontari abbiamo pazientato due o tre giorni, ma la situazione è rimasta così, per cui io e Fabio adesso provvederemo l'uno a raccogliere e l'altro a buttare dell'acqua per far passare in qualche modo lo schifo e l'odore che purtroppo... Avevi detto volontari, ma voi siete amici di Freud? Sì, noi siamo, diciamo, tendenzialmente dei volontari ambientalisti. Animalisti? Ci siamo anche, no, lo siamo per natura, ci siamo anche aggregati in alcune associazioni, una importante che è gli amici di Freud, che è un'associazione che probabilmente è una onlus che prenderà in gestione alcuni siti. Ecco qui che Fabio sta tirando su. Fabio è schifo proprio. Questo è il risultato, guardate bene. Sì, ecco, adesso io procedo alla lavatura, vado a buttare che c'è un odore che muore. Guardate, c'è anche un po' di candeggina dentro. Allora, ecco qua, in pochi minuti la squadra di pronto intervento è arrivata sul posto e ha provveduto a fare. Già che siamo qua, volevo chiedere, questo ramo quando è che lo toglieranno? Noi abbiamo provveduto a sfrondare i rami che impedivano l'accesso di là. Infatti è sfrondato anche se. Invece il grosso, il grosso è ancora appoggiato lì, è un ramo che avrà 15-20 cm di diametro, pesante qualche... Chilo? Sì, forse un quintale anche perché sarà lungo due metri e è largo così, quindi magari 70-80 kg possono anche pesare. bisogna sezionarlo con la motosega e poi portarlo via. È un lavoro che ci vuole 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, non è che ci vuole molto. Noi non lo possiamo fare perché non si può mettere mano a queste cose, pena magari una sanzione. per cui se no l'avremmo già fatto, eh? Va bene, ok. Allora terminiamo qui il video dal laghetto di Corso 4 novembre. Ci sentiamo. Ciao professore. Arrivederci. Ciao Fabio. Arrivederci. Ciao Gianni. Andiamo su a fare... Fori. Ciao. Ciao. Spiccologica. Un minuto di viene.